Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Teramo per la visita al Forum del Gran Sasso del Premier Giuseppe Conte, che è intervenuto questa mattina all'Università di Teramo nel incontro organizzato dalla Diocesi Teramana. Il Presidente del Consiglio ha annunciato nuove misure a favore della ricostruzione da inserire nel prossimo decreto crescita. Ci racconta di più nel servizio Tania Ponnici Castelli. Il Premier Giuseppe Conte questa mattina all'Università di Teramo ha chiuso i lavori del secondo forum internazionale del Gran Sasso. Una tre giorni di approfondimento organizzata dalla Diocesi di Teramo Atri sulla prevenzione nei vari ambiti, dal settore medico a quello giuridico, ingegneristico, sismologico, astrofisico, agroalimentare. Ad accogliere il Presidente del Consiglio a Teramo c'erano il Governatore Marsiglio, il Rettore dell'Università degli Studi Dino Mastrocola, il Sindaco Gianguido D'Alberto e il Vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi. Conte ha risposto alle sollecitazioni della stampa sui contenuti del decreto sblocca cantieri che hanno molto deluso le aspettative dell'Abruzzo sul tema della ricostruzione, assicurando che qualche vantaggio in più potrà essere apportato nel prossimo decreto crescita. Tenevo quindi a dare questa testimonianza ulteriore. Come sapete nei territori che hanno subito le ferite del terremoto viaggio, a questo punto posso dire viaggio spesso perché sono davvero ormai diversi i viaggi che ho fatto, questo è l'ennesimo. Voglio stare tra, dare questa testimonianza a massimo livello di governo della nostra attenzione per queste zone. Abbiamo inserito alcune norme da ultimo nel decreto sblocca cantieri, qualche altra norma potrà tornare utile anche inserita nel decreto crescita. che adesso è in passaggio, mentre lo sblocca cantieri ormai è legge, adesso quello è il decreto crescita, è stato approvato al Senato, adesso passa la Camera. Stiamo completando l'architettura che servirà per procedere più speditamente anche per la ricostruzione. Ci sono poi norme specifiche. Abbiamo cercato di raccogliere le sollecitazioni anche degli enti locali, dei rappresentanti di restituzione del territorio. probabilmente non siamo riusciti a raccogliere il 100% delle richieste, non so se in termini percentuali sono l'80, l'70. Abbiamo fatto molto. Io personalmente mi sono speso anche perché rimanessero alcune norme che pure avevano sollecitato una discussione a livello parlamentare. Al termine dei lavori del Forum, Conte ha incontrato il Presidente della Regione, Marco Marsilio, il Sindaco d'Alberto e il Presidente della Provincia, Diego di Bonaventura. Per arrivare a Teramo, il Premier ha ovviamente attraversato il traforo del Gran Sasso e alla domanda se si dovrà attendere ancora molto per avere la nomina di un commissario per la messa in sicurezza della montagna, ha risposto senza esitazione. Poco, molto poco. Grazie. Proseguiamo con una notizia diffusa dal Ministero dell'Interno perché sono pronti ad essere erogati quasi 11,7 milioni di euro ai comuni che si trovano nelle aree delle quattro regioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto. Misure che sono a compensazione delle minori entrate di moettasi dovute all'esenzione concessa dallo Stato ai proprietari delle case danneggiate dal sisma. Per quanto riguarda l'Abruzzo, lo stanziamento complessivo è di 1 milione 100 mila euro circa. In provincia dell'Aquila sono stati individuati 6 comuni per un totale di 300 mila euro. In provincia di Teramo 15 comuni per circa 460 mila euro. Per la città di Teramo sono stati stanziati 357 mila euro. In provincia di Pescara invece sono stati stanziati 8 mila euro a favore di un solo comune. Continuiamo con la politica che ci porta nella città di Pescara dove non c'è accordo tra le forze di centrodestra uscite vittoriose dalle elezioni amministrative dello scorso 26 maggio. Il sindaco Carlo Masci deve attendere dunque per la formazione della giunta comunale. pesano le frizioni, soprattutto con la Lega. Sentiamo il punto di Paolo Renzetti. La formazione della giunta di Pescara sta diventando come la tela di Penelope che una volta tessuta poi veniva disfatta per essere ricostruita il giorno successivo. Nonostante infatti i proclami del neosindaco di Pescara Carlo Masci che aveva assicurato il baro dell'esecutivo per la giornata di oggi, dal tavolo politico di ieri sera non c'è stata la tanto attesa fumata bianca, anzi. Le distanze infatti restano tali, con i nodi Lega, Presidenza del Consiglio e partiti e liste minori ancora tutti sul tavolo del primo cittadino. Il partito di Salvini insiste per quattro assessorati, ma il sindaco Masci sarebbe fermo a tre, oltre alla Presidenza del Consiglio Comunale che dovrebbe andare, ma non è certo, a Marcello Antonelli. Anche Fratelli d'Italia vorrebbe due assessorati per Cremonese e Rapposelli senza la presenza di una donna, in questo caso Maria Rita Paoni Saccone. Diverso il discorso per Forza Italia, che nello schema disegnato dal sindaco, anche lui forzista, prevederebbe tre assessori, ovvero Luigi Alboremascia, Eugenio Seccia ed Isabella del Trecco. L'ultimo assessorato, secondo Masci, sarebbe da attribuire a Massimiliano Pignoli dell'Udc. Resterebbe fuori invece Pescara Futura, una squadra che però vedrebbe il no della Lega, che resta ferma sulle proprie posizioni, volendo fra l'altro tra gli assessori Adelchi Sulpizio. In queste ore i contatti fra le parti proseguiranno, ma entro l'inizio della prossima settimana dovrà esserci la quadra, in un modo o nell'altro. Andiamo avanti con il nostro giornale e restiamo a Pescara, dove il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, del Movimento 5 Stelle, a poche ore dal blitz della Polizia Municipale, nelle aree di Risulta, torna a denunciare il degrado della zona centrale della città, contestando anche alcune dichiarazioni del questore che ieri aveva detto che non c'è nessun allarme sociale e nessun bisogno dell'esercito. Sentiamo il servizio. Situazione complicata quella delle aree di Risulta di Pescara. Oggi ci sono anche dei cittadini, degli esercenti della zona. Lei parla di una vera e propria emergenza. Qui è un far west, una terra di nessuno, soprattutto la sera quando scende la notte c'è un vero rischio per l'incolumità dei cittadini e residenti. Sono spacciatori di droga che dalla mattina alla sera spacciano droga, maggiormente stranieri, senegalesi e nigeriani, esercitano violenza nei confronti dei cittadini. Ci sono stati casi di stupro, persone col macete che rincorrevano altre persone, aggressioni, violenze. Ogni giorno spacciano droga e seguono anche, a partire dai ragazzini dei 15 anni fino a finire sui due persone i 60 anni, droghe leggere ma anche droghe pesanti. È diventato veramente una situazione a rischio dove a nostro avviso va decretata immediatamente uno stato di emergenza. Quindi il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza deve riunirsi, questa è la nostra proposta, decretare lo stato di emergenza, fare una richiesta al Ministro dell'Interno perché è l'unico che può autorizzare l'operazione Strade Sicure e autorizzare l'operazione Strade Sicure che significa pattuglie miste, esercito e forze dell'ordine che possano presenziare fisse acqua 24 in questa zona con ronde continue, pattugliamenti continui. Altrimenti il problema non si risolve, non solo qui ma è tutto il quadrilatero. Poi ci sono diversi furti, cospaccati ai negozi in centro. Questi balordi criminali, pregiudicati, si immettono all'interno dei negozi esercitando anche violenza. Qui abbiamo una rappresentanza di diversi commercianti esasperati che non ce la fanno più, quindi o prendiamo in mano il problema o non lo prendiamo. Io sono contro ogni operazione ad orologeria, l'ho sempre detto, quindi non mi piace che magari perché sanno che oggi ci siamo noi qualcuno viene, accente il riflettore, si fanno vedere, fanno i passaggi, ci devono stare domani, dopo domani e gli altri giorni fino alla risoluzione di questa emergenza. A tutela soprattutto dei cittadini. Proprio ieri il questore di Pescara ha detto però che non c'è un'emergenza criminalità in città, non c'è bisogno dell'esercito. In città i reati, lo dicono i numeri, a Pescara sono in calo. Beh, io sto ogni giorno in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini, in mezzo al popolo e vivo queste cose. Io stesso ho vissuto operazioni qui di polizia, arresti, addirittura hanno arrestato due o tre persone che avevano taglierini sotto la lingua, pronti a taglieggiare e ad aggredire. La situazione è tragica, io non condivido quello che è stato detto perché ritengo che il problema esista, però ci vuole un coraggio, un'azione di coraggio per riconoscere l'emergenza deve avere coraggio ad ammettere che qualcosa non è andato bene. E lo so, è difficile ammettere, ma quando serve bisogna ammettere per risolvere i problemi. A Lanciano, tribunale blindato per il processo ai romeni che rapinarono i coniugi martelli il 23 settembre scorso, lunedì, udienza dal GUP. Vediamo il servizio. Al processo per la rapina nella villa dei coniugi martelli di Lanciano, giornalisti e familiari degli imputati fuori dal palazzo di giustizia e lo stesso edificio sarà blindato internamente ed esternamente con la presenza di decine di uomini delle forze dell'ordine a presidiare. Il provvedimento di sicurezza è stato adottato dal presidente del tribunale di Lanciano Riccardo Audino in occasione dell'avvio dell'udienza preliminare in camera di consiglio dinnanzi al GUP Giovanni Nappi nell'aula di corte d'assise al terzo piano e che sarà inaccessibile. Tutte le altre udienze civili e penali verranno spostate nei piani inferiori. Tutti e sette gli imputati romeni hanno chiesto il rito abbreviato. Sono accusati della crudele rapina avvenuta a Lanciano la notte del 23 settembre 2018 a danno dei coniugi Carlo Martelli e della moglie Niva Bazzan a cui è stato brutalmente recito il padiglione auricolare destro. Dopo le ammissioni negli interrogatori di garanzia in carcere i rapinatori sono stati inchiodati anche dai riscontri della polizia scientifica di Ancona che ha trovato tracce negli indumenti suole delle scarpe bottiglie e guanti sequestrati. Inoltre impronte altre tracce biologiche ed ematiche anche nel borsone ritrovato durante la fuga sulla Golf seconda auto utilizzata oltre ad una BMW dove c'erano fascette e nastro isolante con cui i martelli vennero legati e imbavagliati. Nel sanguinario assalto a Villa Martelli i rapinatori portarono via tre orologi e oggetti in oro per poi andare con la vettura del dottor Martelli a prelevare contanti per un totale di 1.990 euro con banco matte e carte di credito estorte ai coniugi. Voltiamo pagina adesso ci occupiamo di turismo da Alba Fucens al Castello di Celano sono tante le proposte di qualità per incrementare il turismo in Abruzzo che arrivano dalla Marsica il servizio di Luigi Salucci. La Marsica è un territorio che in tema di turismo potrebbe rappresentare un valore aggiunto per l'Abruzzo così l'assessore regionale a ramo Mauro Febbo nel convegno promosso dalla DMC Marsica ad Avezzano un incontro dal quale è emerso come la vocazione e l'offerta turistica del comprensorio marsicano cresca in maniera costante di anno in anno nel tentativo voluto e perseguito di far convergere tutte le energie verso la sfida che è quella di entrare nei grandi canali del mercato nazionale ed internazionale se la Marsica può contare su eccellenze per il mercato turistico come Alba Fucens o il castello di Celano col suo museo per Febbo la nuova offerta marsicana può avere successo solo se si coordina con l'offerta dell'intera regione dal confronto è venuto fuori un dato di fatto le iniziative portate avanti da 4 anni a questa parte hanno rivitalizzato l'offerta turistica in tema di beni archeologici e hanno contribuito alla crescita della promozione tra le aziende del settore in più secondo Febbo il nuovo impulso in tema di turismo che proviene dalla Marsica porta sì a rivedere la geografia delle destinazioni turistiche locali ma comunque sempre nell'ambito di una strategia condivisa a livello regionale da tutti gli attori e adesso ci spostiamo sulla via verde della costa dei Trabocchi dove le ditte stanno rispettando il capitolato d'appalto per quanto riguarda la pavimentazione della pista ciclopedonale vediamo il servizio asfalto per la via verde è un vincolo di contratto così replicano le ditte che stanno realizzando l'opera tanto attesa lungo i 42 km della costa dei Trabocchi c'è consapevolezza del problema delle canne infestanti evidenziato già lo scorso anno all'avvio del cantiere ed emerso prepotentemente dal manto nero appena posato in queste settimane ma le proposte migliorative non sono ammesse lo dice il contratto stipulato tra la provincia di Chieti enti appaltante e lati delle imprese esecutrici le proposte migliorative si legge non potranno costituire variante alla progettazione preliminare sui materiali previsti così si spiega la presenza di asfalto e bitume soprattutto sulla via verde della costa dei Trabocchi scoppia il caso in piena estate lungo il tratto comunale di Fossacesia appena posato dal manto nero sbucano canne infestanti a riappropriarsi dei luoghi sottratti dai recenti lavori le imprese non possono fare altro che intervenire con la rimozione delle piante e la manutenzione del manto hanno infatti le mani legate dal contratto le imprese realizzatrici Gepri di Guardia Grele di Persio di Montesilvano Tenaglia di Casoli strade ambiente di Chieti ed aeroimpianti di Atessa stanno dunque rispettando le consegne nonostante le perplessità tecniche di tenuta del fondo sono i tecnici della provincia che hanno deciso di usare bitume per la maggior parte del percorso e asfalto solo nelle parti più a rischio idrogeologico e siamo così arrivati alla pagina dello sport partiamo dal calcio e dalla serie B in attesa del primo di luglio giorno dell'apertura ufficiale del mercato proseguono le trattative dei dirigenti biancazzurri per il rafforzamento della squadra il centrocampista del Foggia Bussellato è molto vicino Marco Perrotta è stato richiesto dal Bari Tuminello piace sempre per l'attacco andiamo a vedere insieme il servizio Massimiliano Bussellato potrebbe essere il primo squillo dell'era Luciano Zauri il 26enne del Foggia infatti sarebbe pronto a vestirsi presto di biancazzurro come stamattina riporta il quotidiano il messaggero un'operazione rapida quella che dovrebbe interessare il centrocampista Veneto un bel prospetto quando già nel 2011 passò dalle giovaniglie la prima squadra del Cittadelle che in serie B ha trovato la consacrazione anche se le ultime annate in Puglia tra Bari e Foggia non sono state da ricordare le difficoltà della squadra rossonera che i Sannella hanno messo in vendita ad un solo euro dopo la retrocessione in serie C agevola parecchio un affare che farebbe felici tutti il Foggia si libererebbe di un calciatore che in serie C evidentemente non vuole rimanere i pugliesi risparmierebbero un ingaggio elevato e Luciano Zauri avrebbe un giocatore d'utile che gioca prevalentemente al centro ma che può spostarsi senza alcun problema sull'out di destra della linea mediana un vero e proprio jolly dunque utilizzabile in parecchi angoli del campo quest'anno mai a segno bussellato a come procuratore Mario Giuffredi legato al Pescara da parecchie operazioni portate a termine nel recente passato in Puglia ma sponda a Bari invece potrebbe finire Marco Perrotta richiesto dai biancorossi appena promossi in Lega Pro per quanto riguarda il reparto attaccanti le piste battute dal Delfino sono sempre quelle che portano a Marco Tuminello dell'Atalanta che a Bergamo è destinato a non avere spazio tornando di fatto in prestito di nuovo in Serie B con Ciofani sempre più lontano sembra proprio lui il principale indiziato a raccogliere l'eredità in fatto di gol di Leonardo Mancuso anche se il Delfino non ha abbandonato la pista che porta Gianluca Scamacca del Sassuolo che tuttavia per capire se ci saranno richieste da club di Serie A dopo aver terminato amaramente con l'eliminazione in semifinale l'Europeo Under 20 guarda ancora la massima serie occhio anche ai giovani dell'Inter Davide Merola attaccante classe 2000 e Thomas Schirò stessa età ma ruolo leggermente diverso in uscita nel frattempo Mattia Proietti e Alexis Ferrante entrambi andranno alla ternana dell'ex direttore sportivo Bianca Azzurro Luca Leone in Lega Pro il primo torna dal prestito a Teramo il secondo da quello a Fano dove non è riuscito ad evitare la retrocessione tra i dilettanti a proposito di AD anche il benevento di Filippo Inzaghi si iscrive alla corsa per Leonardo Mancuso oltre all'Empoli di Cristian Bucchi questa sera intanto allo stabilimento Il Belvedere ci sarà la presentazione ufficiale del libro Poveri ma Belli il pescara di Galeone dalla polvere al sogno di Lucio Biancatelli che ripercorre l'epopea della stagione 86-87 culminata con la promozione in Serie A della formazione Bianca Azzura oltre al tecnico ci saranno anche Sliscovic Pagano Marcheggiani Berlinghieri Bosco autore del gol decisivo contro il Parma Di Cara Camplone Gaudenzi e Ronzani Serie C adesso Marco Soprano diventerà presto un giocatore del Teramo l'ex Fermana andrà a rinforzare la batteria dei centrali mentre in mediana fortissime le candidature di Vacca e Ilari allora andiamo a vedere insieme il servizio di Jacopo Forcella Il Teramo fa su il difensore 23N Marco Soprano la società bianco-rossa dunque si muove su tutti i fronti e lo sta facendo in tempi strettissimi perché sa che dovrà praticamente ricostruire l'organico quasi al completo per la prossima stagione oltre a Tomei tra i pali dichiarata richiesta dell'allenatore Bruno Tedino e alle trattative per Ilari più semplice visto che ha il contratto in scadenza e Antonio Vacca con l'ausilio del Parma il diavolo si assicura dunque anche la giovane centrale di difesa di proprietà del Genova e che in questa stagione è stato in prestito alla fermana con il rientro di Ivan Speranza e la conferma di Piacentini la batteria dei centrali è quasi al completo intanto lunedì pomeriggio conferenza stampa di presentazione del nuovo general manager bianco-rosso Andrea Iaconi che traccerà anche le linee guida del mercato considerando che nel mese di luglio e prima del ritiro andrà anche affrontata la situazione attaccanti nel frattempo il presidente Franco Iacchini su Facebook ha lanciato la sfida per il prossimo campionato parlando anche dell'investimento riguardante il centro sportivo bianco-rosso che potrebbe presto essere una realtà grossa attenzione dedicheremo al nuovo centro sportivo stiamo pensando proprio per le famiglie di ricostruire dare alla città un centro sportivo tutto del terramocalcio dove far venire i propri ragazzi fin dalla tenera età e farli crescere e crescere un vivaio che riteniamo essere una delle cose fondamentali per una squadra di calcio dove poter allevare e crescere i propri campioni del futuro nei prossimi giorni mi occuperò del management e dello staff tecnico dal proposito lunedì presenteremo alla stampa e alla città il nostro nuovo general manager che come già saprete tutti è una persona di altissimo spessore nel settore il nostro Andrea Iaconi che già da subito mi ha dato la forza e l'impronta di poter andare avanti e di impiantare le squadre le basi per una squadra veramente forte adesso tocca a voi abbiamo immaginato un hashtag il sogno continua e mi auguro che sia questo hashtag il nostro portafortuna per far sì che questo sogno continui dovrete esserci però voi con me che siete il cuore reclusante del termo riempite questo stadio per cortesia fate sì che sia la vostra casa la casa dei tifosi il posto dove lotteremo insieme per vincere per fare il termocalcio ancora più grande di quello che è stato fino ad oggi adesso lasciamo il calcio la vela torna alla torre del cerrano con la quarta edizione della cerrano cup il prossimo 30 giugno saranno una trentina le imbarcazioni al via nella regata prevista anche una veleggiata non competitiva il tutto all'interno del perimetro dell'area marina protetta tutto pronto per la quarta edizione della cerrano cup domenica 30 giugno nello specchio di mare antistante la torre del cerrano la manifestazione è tutta dedicata al mare e alla vela e l'area marina protetta è il principale promotore di questa iniziativa in collaborazione con il circolo velico la scuffia di Pescara e diverse associazioni del territorio un'iniziativa che la MP promuove perché compatibile con l'ambiente marino che salvaguarda sicuramente noi abbiamo subito capito che la tutela fino a se stessa fatta solo di vincoli chiaramente non avrebbe avuto vita lunga e sarebbe molto difficile mentre invece permettere una fruizione con buone pratiche e favorire e stimolare tutto quello che è un'attività in area marina con il rispetto dell'ambiente e non impattante sicuramente aiuta anche la tutela e poi è un forte attrattore verso il turismo iscrizioni ancora aperte saranno una trentina le imbarcazioni pronte a salpare per una giornata tutta dedicata alla vela beh la regata è sempre quella perché l'abbiamo basata proprio sul sul percorso che è il peribolo di tutta la la zona di tutta la l'area marina protetta del Cerrano quindi noi sfruttiamo il campo boe che delimita l'area per fare tutto un percorso girando intorno a queste boe facendo un percorso a 360 gradi tecnicamente copriamo un campo completo quindi navicheremo controvento a favore di vento quindi anche dal punto di vista tecnico la regata ha una seria validità le imbarcazioni sono imbarcazioni d'altura quindi hanno una classificazione tecnica nella federazione verranno raggruppate in classi secondo la loro tipologia quindi ci saranno sia quelle un po' più croceristiche quelle un po' meno spinte dal punto di vista tecnico sia barche proprio da regata che per cui verranno qui a sfogare tutte le loro capacità veliche abbiamo ancora una volta disciplina nella Marsica torna l'appuntamento con la Sirente Bike Marathon vediamo presentazione della Sirente Bike Marathon siamo a Rocca di Mezzo dove c'è il parco Sirente velino la sede Gianluca Colabianchi allora manca soltanto la settimana tutto pronto? pronto diciamo che comunque il parco ci ha autorizzato a segnare tutto la settimana prima quindi noi in questo fine settimana iniziamo a mettere cartelli e quant'altro per segnalare bene il percorso anche perché dobbiamo rispettare al massimo la natura quanti concorrenti sono previsti? allora oggi abbiamo sfondato il muro dei 700 e mancano ancora nove giorni quindi secondo me saliranno ancora questi concorrenti Mauro Marrone presidente del regionale della federazione ciclistica italiana una competizione una gara particolare ma importantissima per questo territorio è un evento importantissimo un campionato italiano ci sono già ottimi numeri di iscritti si vereremo i mille partecipanti a livello agonistico andremo ad assegnare la maglia di campione italiano della Marathon per le categorie agonistiche amatoriali quindi un evento sicuramente di tutto rispetto un evento importante un evento in cui abbiamo visto la collaborazione fra la nostra federazione le amministrazioni e l'associazione nazionale d'alpini mezzo di Natale il sindaco di Aielli uno dei sindaci che si dà maggiormente da fare per il proprio territorio arriveranno mille corridori ma anche tanta altra gente una giornata importante sarà per Aielli ma non soltanto si per fortuna quello che volevamo è che ci aspettavamo cioè l'arrivo di tanti corridori e di una carovana ovviamente di persone sarà una vetrina importante sarà un momento utile per far conoscere le nostre bellezze quindi benvengano tutte queste persone Caetano Iacobucci ovvero il gruppo Alpini di Aielli state lavorando già dall'inverno scorso a che punto siete? La macchina organizzativa è complessa però devo dire che nonostante abbiamo sempre delle remore sta a buon punto l'organizzazione prima di chiudere torniamo alla cronaca con una notizia che riguarda un incidente che è avvenuto a Faras San Martino nel Parco Nazionale della Maiella durante una escursione guidata una donna è rimasta ferita gravemente donna di Ravenna che era assieme ad un gruppo di un'associazione sportiva di Nordwalking del Ravennate colpita da frammenti di un masso che si è staccato da una parete trasferita nell'ambulanza con il 118 all'ospedale di Pescara è ricoverata in prognosi riservata per un trauma commotivo e ferite all'arcata frontale sul posto carabinieri e vigili del fuoco oltre alla protezione civile che stanno operando per mettere in sicurezza l'area il gruppo di una ventina di persone era diretto verso la montagna visto il rischio di maltempo gli escursionisti hanno deciso di tornare indietro non lontano dalla sbarra d'accesso alle gole a circa 500 metri di quota c'è stato il distacco di parti di masso che si è sbriciolato in pezzi di oltre 10 centimetri di diametro alcuni dei quali hanno colpito la donna alla testa il gruppo Ravennate era partito questa mattina da Fossacesia e l'associazione la Trail Romagna di Ravenna è tutto per questa edizione del telegiornale io vi ringrazio per averci seguito vi ricordo che se volete trovate un demanda i nostri servizi sia sul canale youtube che sul sito dell'emittente www.tv6.it il prossimo aggiornamento con l'informazione del TG6 è alle ore 19 grazie e buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.